Vedrai che le starà alla perfezione. Così poi si possono fare delle fotografie più... Più, ho capito, più. Proprio così. Ecco qua. Dunque, se vogliamo sbrigarci e fare sul serio, lei si prepara lì in 448, come hanno fatto tutte le altre. Io le volto le spalle, devo preparare. Se poi ha paura, di là ci sono porte, chiavi, serrature. Vada pure, si spranghi dentro. Non c'è bisogno. Volti le spalle. Oh, brava, ecco, così non si perde tempo.